Tartarughe Ninja numero 51, il ritorno di Karai e la perdita di un personaggio molto importante. Wabalabadabdabe, bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja. Continuiamo a parlare della serie regolare che è uscita in questi giorni. È in edicola da, credo, da sabato scorso. Scusate, non è in edicola, è in fumetteria, in libreria da sabato scorso. Ne escono sempre poche copie, quindi prenotatelo nella vostra fumetteria di fiducia, il numero 51 di Tartarughe Ninja. Per chi scopre il mio canale per la prima volta, vi ricordo che dal numero 50, ovvero da due mesi fa, ho iniziato a parlare di questa serie a cadenza regolare e sto recuperando settimana per settimana tutti gli arretrati. Quindi ho iniziato dal numero 1 a parlare di questa serie della IDW di Tartarughe Ninja, in modo che se voi non l'avete letta vi do delle dritte, vi do dei piccoli riassunti per potervi mettere in pari e chissà magari farvi venire voglia di comprare questa serie. Prima di cominciare, quindi, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un guscio e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e di quello che pensate di aspettarvi dai prossimi numeri. Per chi sa già, segue un po' il mondo negli Stati Uniti di questa serie a fumetti e sapete fare i calcoli, questi cinque numeri sono tratti dai numeri dall'87 al 91 di Tartarughe Ninja. Sappiamo che nel numero 100 succederà qualcosa, arriverà qualcuno e questo cambio di status quo ha generato non poche polemiche tra i fan molto appassionati. Per chi invece non sa di cosa sto parlando, non voglio fare spoiler, dovete aspettare quando succederà anche in Italia. A differenza dei primi numeri di cui sto parlando settimanalmente, qua siamo ormai a 104 pagine, tra l'altro costa 11,90, non più 3,30 come i primi numeri di cui parlavo. Non è molto economico, ma io spero che parlandone si diffonda, le copie richieste aumentino e chissà, magari un giorno si riabbasserà il prezzo. Avere 104 pagine significa anche avere 5 storie di cui parlare e non 2. Però cercherò di dividere i due macro argomenti che vengono trattati in questo numero. Un numero che mi è piaciuto un sacco, devo dire, perché ultimamente c'era stato un po' di fermo, forse anche dovuto al fatto che ogni tanto questa serie si ferma, non è stampata a cadenza regolare, finalmente le cose si stanno riprendendo, nonostante, vabbè, ok, la crisi della carta ha rallentato di un mesetto l'uscita, ma ci può anche stare, tant'è che la prossima uscita dovrebbe essere già a gennaio. Però adesso le cose finalmente sono tornate a farsi succulente, a farsi interessanti da leggere e anche molto complicate rispetto all'inizio. Andiamo con ordine. A Barno Island, che è fondamentalmente una sorta di isola che è stata terraformata secondo la dimensione X, la dimensione dove vivevano originariamente gli Uthron, la razza che ha dato origine a personaggi scomodi come Krang. Krang, che è stato di recente divorato dal Leatherhead, è uscito dalla sua prigionia un altro personaggio molto scomodo, molto simile a Krang, che si chiama Crel, che in futuro potrebbe rivelarsi un Krang 2.0. Lo vediamo indossare un'eso armatura molto potente ed è molto arrabbiato con sua sorella Marielle, perché lei invece è una degli Uthron molto saggi, molto diplomatici, al punto da sancire un'alleanza con i Triceratron, come abbiamo detto nel numero scorso. E invece Crel vuole sterminare tutti, vuole la supremazia degli Uthron sul pianeta Terra, non vuole certamente scendere a patti con i Triceratron, che vede come schiavi. Ma tutte queste faccende sono risolte in poche pagine, perché c'è un nemico alle porte, che è un nemico comune di tutti, ovvero l'agente Bishop e la sua FPT, forza di protezione terrestre, una sorta di Man in Black, de no altri. Bishop è il nemico comune anche delle Tartarughe Ninja e dei Mutanimali, il gruppo di mutanti formati da Vecchio Diavolo, Slash, e anche altri elementi un po' meno approfonditi, come Herman il Paguro e Man Ray, che è una razza umana, oltre che a Mondo Dzeko e a Coraggio, ovvero Mutagen Man. Tutti questi mutanimali vogliono proprio salvare Slash, che è stato rapito dalla FPT, e quindi dall'agente Bishop, ed è usato come arma vivente fondamentalmente. Bishop lo comanda a distanza con una sorta di VR, divisore, e gli fa fare quello che vuole con la forza che possiede Slash. Quindi Slash fondamentalmente è guidato come un automa, totalmente dall'agente Bishop, che comunque già di suo è molto forte, e in questo numero finalmente scopriamo chi è l'agente Bishop. Lo abbiamo già conosciuto come personaggio l'agente Bishop nei fumetti originali dell'84, se non ricordo male. Lo abbiamo sicuramente scoperto anche nel cartone animato del 2012. Qui l'origine è molto diversa. Non so se mi ha deluso, mi ha sicuramente destabilizzato, e mi ha fatto però anche pensare. Finalmente scopriamo l'origine di questa versione dell'agente Bishop, la versione dei fumetti da Lady W. Scopriamo che, a differenza della sua controparte principale, cioè di altre testate fumettistiche, l'agente Bishop qua non è un utrom che va contro la sua razza, o qualcosa del genere. L'agente Bishop sì, è comunque una sorta di mezzo robot, è comunque artificiale, ma è allo stesso tempo umano. È una sorta di umano deforme che si trova all'interno di un corpo robotico, esattamente come Krang hanno mostrato come negli anni Sessanta la CIA stava, o la già allora FPT, aveva rinvenuto un'astronave aliena, dei Kranger, e stava vivisezionando il corpo di un Krang, esattamente come la famosissima fotografia che gira in rete sull'ispezione, scusate, l'autopsia dell'alieno nell'area 51, esattamente con la stessa prospettiva, con la stessa inquadratura, hanno mostrato come degli scienziati stavano vivisezionando un alieno Krang e allo stesso tempo stavano anche cercando di scoprire la tecnologia dietro al suo esoscheletro. Quindi scopriamo che l'agente Bishop non è altro che un esoscheletro comandato da un nanetto molto piccolo e molto arrabbiato, una specie di modok ma senza la testa grossa. Un essere deforme che mi ha ricordato più o meno il robot di Invincible, ma non animato dalle stesse buone intenzioni, anzi è davvero arrabbiato con tutti i mutanti. E questo è lo spunto interessante. Un essere nato deforme e protetto da suo padre che gli ha costruito questo esoscheletro per non mostrare la sua deformità al mondo dovrebbe sentirsi in sintonia con i diversi, con le persone diverse, in questo caso con le tartarughe ninja, in questo caso con i mutanimali, con i mutanti in generale. E invece no, nonostante lui è diverso dalla normalità, ce l'ha a morte con i mutanti, ce l'ha a morte con tutti i mutanti, con tutti gli alieni, con tutte le persone che minacciano l'umanità. Perché? Perché lui potrà anche essere diverso, potrà anche essere deforme, ma è comunque umano. E invece loro sono inferiori. Quindi questo è proprio il caso in cui si forma un personaggio e si decide di farlo diventare o un eroe o un cattivo. Un eroe in questo caso avrebbe scelto di prendere la propria diversità e farla diventare un mantello per la difesa delle altre persone come lui. Qui invece un cattivo che ce l'ha col mondo, deve avercela con qualcuno per la sua condizione, decide di puntare un nemico, una categoria specifica di nemico, in questo caso i mutanti, e versare su di essi tutto il loro odio. Sembra che non sto più parlando di fumetti, ma di attualità? Fatevi due domande. E' quanto di più realistico che succede in ogni ambito. Fumettisticamente devo dire che un pochino sono non deluso. Diciamo che avrei preferito che Bishop fosse comunque un alieno, un Ultron ribelle, qualcosa del genere. Invece è un fastidiosissimo essere umano. Però è un interessante cambiamento nella storia delle tartarughe ninja che mi rende interessante la lettura. Chissà cosa scopriremo di più di lui, se lo vedremo in altre occasioni. Io sto già pensando una cosa, onestamente. Io sto pensando che se riescono a trafugare il corpo meccanico dell'agente Bishop e riescono in qualche modo a metterci Mutage and Man, Mutage and Man potrebbe un domani avere finalmente un aspetto normale e non sentirsi più così bizzarro, così orrendo agli occhi del mondo. Questa è la mia speranza per il futuro, però non so cosa succederà. Purtroppo in questa battaglia dove scopriamo anche il vero volto di Bishop ci sono anche delle perdite. Scopriamo che quel pezzo di merda dell'agente Bishop, oltre a comandare Slash, ha anche impiantato una testata nucleare, una testata nucleare nel collo della tartarugona. E Slash, non appena viene liberato dal pilota automatico che gli aveva imposto l'agente Bishop e si rende conto della situazione, decide di sacrificarsi per evitare di fare dei danni alla comunità. Non può essere, la bomba non può essere rimossa rischiando che Bishop la faccia saltare in un posto dove possano operarlo, che può essere la Barnaw Island. I Krang non vogliono assolutamente che Slash venga portato all'interno di Barnaw Island rischiando di far saltare in aria agli ultimi superstiti della razza Krang. La stessa cosa vale per i Triceratom e chiaramente non lo possono portare a New York perché rischiano di far saltare in aria tutta la città. E così Slash decide di farsi abbandonare in mare aperto, una scena che mi ha ricordato molto il finale del Cavaliere Oscuro e il ritorno, per evitare di coinvolgere qualcuno nell'esplosione. Quindi, purtroppo, dal numero 51, Slash non è più parte della storia. Mi dispiace davvero tanto perché era un personaggio che mi piaceva un sacco. Anche se il suo aspetto in questa incarnazione dell'ADW mi ricordava molto di più Tocca che non Slash, però avrei davvero voluto continuare a vederlo collaborare con le tartarughe ninja. Era sicuramente il più interessante dei mutanimali, quindi non so, gli altri non è che mi interessavano molto, però, vabbè, pazienza. In una di queste cinque storie, adesso ve ne ho appena narrate due, nella terza si parla anche del funerale, fondamentalmente, di Slash, dove Michelangelo dice delle parole abbastanza toccanti sulla perdita dell'amico, anche abbastanza strane. Qua si va un po' a pestare il merdone dell'aldilà, fondamentalmente. Come puoi parlare di aldilà in un fumetto dove fondamentalmente le quattro tartarughe ninja sono delle reincarnazioni di ragazzi giapponesi del Giappone feudale e qua vediamo Miki nella sua più totale ingenuità che cerca di mostrare la sua fede e le reazioni degli altri fratelli sono disegnate in maniera perfetta. L'imbarazzo che genera è fantastico. È lo stesso imbarazzo di quando magari un fedele parla apertamente della sua fede e le persone attorno a lui che non hanno assolutamente la stessa fede sono assolutamente imbarazzati dalle sue parole perché non la vedono come lui e vediamo i volti di Raffaello di Donatello di Leonardo che vorrebbero essere da un'altra parte invece Miki con la sua purezza d'animo spera che essendo lui stesso appunto una reincarnazione spera che anche Slash si reincarni da qualche parte oppure stia felice in paradiso a nuotare in una vasca di cioccolata qualcosa del genere diametralmente opposta invece la reazione di vecchio diavolo che si era molto affezionato a Slash quando si era unito ai mutanimali e dice che sono tutte stronzate non gliene frega non pensa assolutamente che Slash sia in paradiso sa che Slash è morto ed è a pezzi nell'oceano e vuole arrabbiatissimo e vuole assolutamente fare guerra a Bishop e a tutti coloro che d'ora in poi si mettano contro i mutanti e ce ne sono tanti c'è stato il piede c'è la nulla che non è la FPT è un'altra agenzia non sappiamo nulla della nulla sappiamo solo che ci sono anche lì altri mostri strani che ce l'hanno con i mutanti sono loro che hanno creato Mutage and Man in questo contesto se non sbaglio quindi ci sono tanti nemici ancora da esplorare e vedremo se vecchio diavolo muoverà una guerra in questo senso da questo punto di vista ci allacciamo al secondo macro argomento di questa testata ovvero il ritorno di Oroku Karai che in questo contesto non è la figlia di Shredder ma è la nipote di Shredder dato che vabbè Shredder anche lui era un guerriero del Giappone feudale tenuto in stasi per secoli e riportato in vita dalla strega Kitsune quindi Karai non l'hanno descritta come la figlia di Shredder ma come la nipote però poco cambia fondamentalmente Karai nel numero 32 era arrabbiatissima del fatto che Splinter avesse battuto Shredder e diciamo ereditato per onore il clan del piede se n'era andata e adesso è tornata a reclamare il clan del piede è tornata proprio quando Leonardo vorrebbe riunire il clan amato questo il nome delle tartarughe ninja prive di Splinter o anche quando Splinter era con loro il clan amato al clan del piede che ora è governato appunto dal loro padre da Splinter questo perché proprio perché Vecchio Diavolo sta ponendo le basi per una nuova guerra lui vuole Leonardo vuole più alleati possibili e vuole che non ci siano delle alleanze di comodo ma vuole combattere come un unico gruppo coeso come un'unica grande famiglia anche eventualmente contro Vecchio Diavolo se dovesse diventare troppo violento Splinter sembra anche pronto a questa transizione a questo passaggio di consegno a dare il manto del potere del clan del piede a Carai tra l'altro è pronto anche perché c'è una storia in tramezzo che cade proprio a fagiolo nel mese di dicembre una sorta di canto di Natale in cui Splinter riceve la visita del fantasma di Shredder e poi di tre fantasmi che fondamentalmente vanno proprio a citare il canto di Natale di Dickens e in questo caso lui vede come se in futuro continuerà a distaccarsi dalla propria famiglia diventerà pazzo come Shredder e verrà ucciso dai suoi stessi figli e in una fantastica seppur canonica storia di Natale dove Splinter decide di riunire tutti e diventare un po' più buono un po' meno maestro integerrimo del clan del piede pare che questo porti appunto al desiderio di Splinter di tornare con la propria famiglia a essere il loro padre e lasciare il clan del piede a Karai che comunque dovrebbe avere un pochino più onore di Shredder ultime due note a margine ci sono un paio di cose che non tornano ma nelle note spiegano che l'incontro tra Karai e il clan amato prima di entrare nella stanza del clan del piede si è svolto in delle storie che qua in Italia ci mostreranno solo nel numero 53 quindi tra ben 4 mesi di solito la cosa mi fa incazzare da morire però direi che hanno unito talmente bene gli argomenti in questo numero che lascio correre quindi aspetterò di capire perché vorrei capire innanzitutto questo mutante enorme che è inquietantissimo dovrebbe essere una sorta di opossum non so cosa sia ma è davvero più pericoloso di quanto non sembri oltre alla stazza e poi vorrei anche capire una cosa ma questa probabilmente non me la ricordo io se voi lo sapete aiutatemi ho visto un Metalhead totalmente senziente quindi non comandato a distanza da Donatello ma come se fosse una creatura autonoma scendere a patti con cioè creare un'alleanza con l'agente Bishop e onestamente io non ricordavo questa cosa di Metalhead ero convinto che qualcuno lo comandasse a distanza anche in questo in questo in questo contesto dall'ADW però adesso tanto settimana per settimana ripasseremo i vecchi numeri quindi eventualmente capirò capirò se Metalhead ha preso vita propria però se voi lo sapete ricordatemelo qua sotto io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video ciao